Avrebbe applicato fino al 105% di interessi il 39enne residente a Tavuglia accusato di usura gravata e di abusiva attività finanziaria. Con un'operazione congiunta i finanzieri e il personale della questura di Pesaro hanno eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal tribunale. L'uomo infatti svolge regolarmente varie attività imprenditoriali ma parallelamente aveva avviato da alcuni anni un giro di prestiti di denaro anche a tassi usurari nel quale erano caduti numerose persone. Durante una perquisizione svolta nel luglio del 2022 era stata sequestrata numerosa documentazione bancaria e finanziaria. È stata quindi svolta una minuziosa analisi dei faldoni, delle centinaia di appunti manoscritti e dei moduli rinvenuti che hanno consentito di ricostruire il volume di denaro che ha movimentato il 39enne mettendo in luce 300 operazioni di prestito svolte nei confronti di circa 280 soggetti per un importo complessivo di 800 mila euro con compensi pattuiti di tipo usurario richiesti a tre persone. In particolare l'uomo utilizzava delle schede clienti e teneva all'interno dei fascicoli i titoli di credito trattenuti a titolo di garanzia sul prestito concesso come assegni bancari e cambiali. Inoltre sono state rinvenute delle stampe denominate piani di rientro con le modalità di pagamento delle rate con date importi e capitale residuo. Nell'inchiesta però c'è anche un secondo indagato che si sarebbe occupato della riscossione a domicilio delle rate dei prestiti in scadenza. Oltre all'arresto dell'imprenditore sono state effettuate varie perquisizioni nei luoghi nella disponibilità dei due indagati che hanno consentito il sequestro di ulteriore materiale probatorio nonché dell'importo di 1.100 euro ritenuto il potenziale profitto dei reati contestati.